Vibonati, Salerno. L'amministrazione ha dedicato due serate ai piccoli con la manifestazione bambini in festa. Questa sera 21 agosto ore 21, Area Parco Giochi Vibonati, Jurassic Park. Domani sera 22 agosto ore 18 e 30, Lungomare di Villammare, Super Firos. Due serate ricche di animazione, giochi, laboratori creativi, baby dance, gonfiabili e tanto divertimento. Grazie.